Ringraziamo sicuramente l'Union Clodiense e ovviamente il presidente Ivano Bielo appunto per l'entusiasmo che gira attorno ormai sempre più alla squadra, alla società visto che il primato in classifica che fa besperare per poter arrivare alla Serie C all'ambito Serie C, sarebbe un traguardo veramente storico e importante ovvio però che poi dopo servirebbe l'aiuto di tutti, condizionale ed obbligo scongiuriamoci, ci mancherebbe altro per arrivare al traguardo però ovvio che dopo serve un po' l'aiuto di tutti perché questo veramente comporterebbe un ritorno di attenzione maggiore in città e sicuramente ne gioverebbe poi tutta la città stessa dal mondo alberghiero piuttosto che il mondo nell'ambito turistico ristoranti e chi ne ha più ne metta dunque la nostra città veramente diventerebbe un palcoscenico nell'ambito sportivo ma non solo derivante appunto nell'aver accentrato una categoria superiore come quella di Serie C ovvio gli scongiuri ci mancherebbe altro, ci sono ma l'auspicio e l'augurio è appunto quello di arrivare a raggiungere questo traguardo e dunque un plauso alla società, a tutto lo staff, al presidente e ovviamente a tutti i giocatori sperando appunto che continui così ma ovviamente l'invito è che poi dopo tutto il mondo imprenditoriale tutti coloro che possono contribuire a portare ancora di più su e rendere più funzionale ancora di più la società stessa della città si uniscano appunto le forze e possano poi portare diciamo così ancora più traguardi ancora più importanti ovviamente per la nostra città dunque al di là dei ringraziamenti speriamo che si vada, si continui in questa strada i risultati siano sempre più positivi ovviamente però dopo siamo un po' l'aiuto di tutti e quell'aiuto che ci serve sarà sicuramente improntato non solo per gli interessi della società ma soprattutto gli interessi dell'intera collettività della nostra città dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria la sua pasticceria artigianale dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia